Siamo alle ultime ore delle 3 2014, abbiamo appena assistito ad una presentazione di Mortal Kombat 10 dei NetherRealm Studios. Eravamo davvero molto curiosi per questo progetto annunciato pochi giorni fa durante le conferenze delle 3. La presentazione si è concentrata tutta su una delle nuove caratteristiche del gameplay, ossia la possibilità per ogni personaggio del roster di godere di 3 set di mosse differenti che possono cambiare notevolmente il suo approccio al combattimento. Ci è stato mostrato ad esempio il set di mosse di Sub-Zero che ha a disposizione diverse particolarità tra cui una sagoma di ghiaccio di se stesso che può creare ed usare in vari modi. Può sbatterla in faccia all'avversario oppure può lasciarla a modi trappola, di conseguenza se l'avversario la dovesse toccare rimarrebbe a sua volta ghiacciato e poi esposto alle offensive proprio di Sub-Zero. Abbiamo poi visto Scorpion invece che basa i suoi attacchi solitamente sul fuoco e può sfruttare ad esempio l'intervento di un demone che acchiappa il giocatore avversario e lo mantiene fermo mentre Scorpion può continuare a fare danni. Abbiamo poi visto alcuni dei personaggi nuovi, saranno 4 in tutto. Quello che ci ha colpito di più è sicuramente Ferrator, ossia un gigante guidato da una donna psicotica che sta sulle sue spalle e praticamente lo controlla. Si tratta di un personaggio interessante perché permette diversi approcci a seconda che si attacchi con il gigante oppure che si attacchi con la donna stessa che può scendere dalle spalle del gigante e sviluppare tutta una serie di sue offensive. A colpire è stato anche il comparto grafico. Diciamo che sono molto lontani i tempi in cui Mortal Kombat era una serie caratterizzata da movimenti legnosi. Rimane quell'impianto ma gli sviluppatori hanno cercato di mascherare il più possibile questa caratteristica e rendere le animazioni più fluide anche nella resa dell'impatto di quando un giocatore subisce il colpo. Nel complesso ci ha impressionato molto, naturalmente soltanto con un endzone potremmo davvero capirne di più.